Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe, siamo ancora su One Punch Man The Strongest Man e oggi vi voglio fare vedere un'altra meccanica e soprattutto qualcosa di nuovo all'interno del gioco voglio farvi vedere appunto la modalità storia se così si può dire se noi andiamo qui e selezioniamo qual era questa voce come potete vedere ogni capitolo della saga di One Punch Man viene rappresentato tramite dei livelli bonus che si possono sbloccare tramite le stelline di completamento del gioco ma a questo ci arriviamo dopo incominciamo subito con il giocare la nuova storia ovvero l'introduzione di Sonic il Supersonico dove praticamente abbiamo la possibilità una volta completato il capitolo di ricevere come ricompensa 5000 gettoni d'oro 3 bottiglie di esperienza, 1 premium ticket e 150 gemme quindi andiamo subito all'interno della storia dove come potete vedere viene rappresentato da delle animazioni o comunque delle immagini in generale dove viene rappresentato quello che succede effettivamente nel manga e nell'anime infatti l'introduzione di Sonic il Supersonico comincia con appunto le vicende di Hammerhead dove con gli utopisti cercava appunto di creare un mondo dove non bisognava lavorare e si doveva dare il sostentamento a tutte quante le persone infatti come potete vedere tutti quanti con le teste rasate vanno in giro con queste tute che avevano rubato dal laboratorio e praticamente andavano verso la casa di Goldoni se vi ricordate bene a distruggergliela per poi dare un messaggio comunque alla popolazione di ribellarsi appunto ai ricchi e ai potenti Saitama nel frattempo nota al telegiornale che parlano per l'appunto di questi brutti ceffi che sono praticamente tutti pelati e dato che appunto la somiglianza con lui essendo anche egli pelato è scandalosa e praticamente lampante decide di intervenire lui stesso per riscattare il nome dei pelati e far vedere che non tutti i pelati in realtà stanno con Hammerhead ecco qui apprende appunto la notizia e allora decide vedete decide in prima linea di andare appunto a sistemare la situazione ed è qui che però Hammerhead insieme a tutti i suoi scagnozzi dovrebbe incontrare esatto Sonic il supersonico che ovviamente si presenta e dirà appunto che eliminerà tutti quanti i suoi avversari alla velocità della luce ecco qua questa è la scena dove praticamente mozzava le teste a tutti e adesso affronta Hammerhead in uno contro uno vediamo se è comando Sonic sì comando Sonic e penso che esatto gli faccio gli faccio praticamente malissimo perché appunto la storia è infatti 1550 addirittura come danno singolo più 448 perché ha la sua passiva che praticamente infligge un danno doppio come se fosse lui ad attaccare due volte ecco Hammerhead sconfitto lui pensa di averlo eliminato mentre invece Hammerhead ringrazia la mamma per avergli fatto il cranio così duro e quindi scappa però scappando incontra lui che è anche peggio di Sonic probabilmente e lui gli chiede effettivamente perché stesse facendo tutto quello eccetera eccetera lo attacca non subisce nulla e One Punch Man ovvero Saitama decide di disintegrargli l'armatura con un solo pugno vediamo se si vede l'immagine ah no sono io che devo utilizzare adesso la squadra adesso possiamo utilizzarne uno in più addirittura e la cosa diciamo bella anche di questo gioco è che in alcuni eventi bisogna utilizzare soltanto personaggi della fazione degli eroi quindi personaggi buoni tra virgolette e invece in altre situazioni bisogna utilizzare i personaggi cattivi quindi della fazione degli esseri misteriosi e quindi importante perché ovviamente il gioco perderebbe senso pullare e ottenere più diciamo più personaggi sia di una fazione che di un'altra proprio per completare tutti quanti i contenuti per cui io i personaggi buoni effettivamente ne ho un paio quindi ho un buon team ma solitamente come potete vedere esiste la meccanica anche di evocazione di Saitama quindi non perdo assolutamente troppo tempo utilizziamo Spatent Rider che come vi ho detto è una sorta di buffer che mi permette di caricare la mia special vedete che faccio effettivamente pochi danni questo perché giustamente nella modalità storia tutti i personaggi che incontriamo effettivamente sono dei boss infatti la cosa che bisogna fare assolutamente è quella di resistere con i personaggi che appunto abbiamo in modo tale da poter evocare Saitama e poi far chiudere lo scontro a lui infatti anche per questo che è consigliabile portare su di livello o di potenza in generale i propri personaggi come sottofondo abbiamo ovviamente la host di Genos della battaglia di Genos che è bellissima penso sia una delle host più fighe di One Punch Man ok qua adesso dovremmo aver sbloccato Saitama e quindi concludiamo il tutto anche se in realtà non mi stavo comportando malissimo cioè stava cadendo lo stesso però per evitare problemi anche perché qua non devo prendere le stelline di completamento basta sconfiggere il boss lui gli dice di andarsene perché non ha intenzione di eliminarlo e qui incontra appunto Sonic il supersonico si proclama suo rivale e adesso dovrebbe partire tutta la fase esatto quella dove appunto devo combattere contro Sonic la squadra lascio la stessa tanto il meccanismo è identico affronto Sonic però nello stesso metodo quindi devo resistere tra virgolette e poi evocare o invocare in questo caso l'aiuto di Saitama mettiamo l'auto tanto l'automatico è abbastanza evidente quello che dobbiamo fare vediamo se mettiamo weakness ok abbiamo messo weakness e fiamme Sonic è buono molto buono perché ha una velocità assurda quindi attacca sempre e ripeto sempre per primo in qualsiasi situazione a partire da ogni turno attacca sempre primo quindi dobbiamo stare anche un po' attenti effettivamente infatti probabilmente palla sorridente la non mi ricordo come si chiama probabilmente farà una brutta fine però alla fine ci sta tanto non devo prendere stelle di completamento qui mi basta solo resistere fino a quando arriva Saitama e pone fine allo scontro anche perché appunto la storia si incentra su Saitama quindi se non utilizzi Saitama sei proprio un pollo caricamento perché ovviamente queste sono tutte cose nuove che sto facendo quindi il gioco ancora non ha caricato tutto ciò che c'è dopo e tutte le varie cose e su questo effettivamente non posso dare colpa a nessuno sperando che non ci metta veramente troppo tempo ecco qua ok caricato sì se Saitama magari si leva ecco grazie Saitama e qui adesso c'è la scenetta dove appunto Saitama colpisce dice scusami non l'ho fatto apposta hai che andavi troppo veloce ecco Saitama Kambariuo metticela tutta che è appunto quando si dichiara rivale di Saitama dicendogli che l'avrebbe sconfitto e Saitama giustamente prendendo la palla al balzo dice mi raccomando impegnati cerca appunto di farcela e di di mettermi appunto i bastoni tra le ruote Saitama Saitama cioè perché devi fare le flessioni giusto giusto oh bravo a questo punto una volta completato il capitolo possiamo appunto ricevere le ricompense che in questo caso sono quelle che vi ho elencato precedentemente quindi le gemme il ticket la pozione esperienza e le 5.000 le 5.000 monete d'oro che solitamente sono la valuta più comune e servono non solo ad acquistare merce nello shop di base ma servono anche per portare su appunto i nostri eroi con le medaglie con tutte le cose che otteniamo ovviamente in giro durante il completamento delle altre stage di cui adesso appunto vi parlerò perché come vi ho detto prima nel tempo che qua carica non so cosa per sbloccare questi capitoli per sbloccare queste storie ovvero la storia principale del gioco bisogna ottenere un tot numero di stelle le stelle si ottengono per l'appunto completando i vari mondi che vengono li chiamo così ma in realtà sarebbero le varie stage che vengono presentate all'interno del gioco con un grado di completamento da una a tre stelle ovviamente le tre stelle indicano il perfect quindi il fatto che voi abbiate sconfitto tutti i nemici abbiate mantenuto in vita tutti quanti i vostri alleati e abbiate comunque ottenuto un buon punteggio per quanto riguarda i danni fatti e i danni subiti che ovviamente sono sempre in correlazione al fatto che non vi sia stato sconfitto nessuno ora non sto capendo perché qua sta caricando tutto questo tempo male che vada farò un taglio per risparmiarvi tutto questo tempo però ne approfitto per parlarvi e per dirvi che questo completamento ovviamente vi darà delle ricompense perché portando tutti i livelli al perfect quindi portando tutti i livelli a tre stelle riuscirete a sbloccare dei vari forzieri una a dieci stelle una a venti e una a trenta stelle solitamente ci sono dieci mini livelli in un'unica stage dove appunto affronterete degli avversari affronterete tipo delle sorte di battaglie e ogni questa battaglia vi darà un tot di ricompensa di stelle una volta ottenute tutte le stelle avrete chiuso in quel modo il capitolo e sbloccherete la sua stessa modalità quindi anzi no modalità no sbloccherete lo stesso capitolo però in modalità difficile un po' come il completamento dei lost chapter o dei capitoli in opera omnia per chi magari mi segue per opera omnia che è prima completate il livello o comunque completate il capitolo del lost chapter in normal e poi successivamente sbloccate la loro versione in hard mode quindi in difficoltà in una difficoltà più alta ovvero difficile una volta completate anche quelle che saranno meno stage ma saranno sicuramente più impegnative otterrete un bonus ecco nel frattempo si è sbloccato finalmente otterrete un bonus per quanto riguarda appunto i livelli completati infatti come potete notare adesso la prossima storia il prossimo capitolo che andremo a sbloccare si appunto si sbloccherà su a 172 stelle io in questo momento ne ho 143 anche perché ho fatto la maggior parte dei livelli con 3 stelle soprattutto grazie alla nuova ssr che abbiamo trovato nell'episodio precedente che mi ha dato veramente una grandissima mano senza considerare il fatto che scusatemi ma ovviamente sempre notifiche quando non mi servono come vi stavo dicendo grazie appunto all'ssr che abbiamo trovato nello scorso episodio siamo riusciti appunto a fare cioè io sono riuscito a fare veramente tanti tanti livelli soprattutto a 3 stelle dove inizialmente non riuscivo allora ricompense dalla lettere ho un ticket nero questi saranno dei ticket che dovrò assolutamente esplorare domani tra virgolette perché tra 8 ore ancora si sto registrando di fila anche se voi questo episodio probabilmente lo vedrete più là però sto registrando di fila l'episodio di prima quindi tra 8 ore circa dovrei vedere effettivamente a che cosa mi serviranno questi ticket neri e soprattutto quanti ne devo ottenere infatti sto risparmiando le gemme proprio perché se una multisummon con boros mi dovesse costare dei ticket e alcuni ticket posso comprarli appunto dallo shop sicuramente non perderò tempo vedete i ticket neri che però ancora non mi danno la possibilità di essere utilizzati ciò che vi stavo dicendo appunto è che per ogni stage chiamiamola così come potete vedere è presente vi faccio vedere magari dal primo capitolo dalla prima stage come potete vedere in basso vedete quei livelli con le stelle dove c'è scritto 9 su 9 e 9 su 9 bene la stella piccolina quindi quella che vedete a sinistra è la difficoltà normal mentre invece la stella più grande quella che vedete a destra con una sorta di specie stella da sceriffo rappresenta la difficoltà difficile quindi la difficoltà hard io ho completato ovviamente entrambi essendo comunque il primo capitolo essendo la prima stage molto molto semplice le ho completate tutte però man mano che andrete avanti come potete vedere ci saranno diverse stage e diversi livelli che potrete completare con tutte quante le stelle io fortunatamente sono riuscito quasi a farle tutte qui l'ho appena sbloccato la modalità difficile e devo cominciarla quindi sono altre 18 stelle che posso ottenere più quelle che devo ottenere da questa modalità che comunque me ne manca una sola visto che l'ho già cominciata però diciamo che bene o male sto viaggiando ad un livello abbastanza diciamo abbastanza buono non mi voglio non mi voglio dilungare più di tanto ciò che voglio fare per oggi è un'altra summon dato che sono riuscito ad accumulare altri 10 ticket con i vari capitoli le storie le ricompense eccetera eccetera ho ottenuto altri 10 ticket probabilmente non dovrei fare questa cosa dovrei conservarmi i ticket per le prossime batch però dato che la possibilità è sempre dell'1% di trovare un SSR dalle vocazioni è anche un po' inutile risparmiare più di tanto perché più risparmi è più la delusione alta quindi preferisco magari pullare subito per tentare di trovare soprattutto tornato del terrore Tatsumagi è quella che forse mi attira di più nella batch premium è quella che sicuramente mi attira di più però dovessi ottenere magari un'altra SSR sicuramente schifo non mi fa questo sono assolutamente sicuro però non capisco perché mi stia dando questi problemi di lentezza cioè prima mi andava perfetto il gioco adesso invece mi sta facendo tutti questi tutti questi caricamenti tutte queste cose che sono cose tra l'altro che dovrebbero già trovarsi all'interno del gioco quindi non capisco effettivamente perché dai dannazione tra l'altro come potete notare anche il mio livello di squadra è aumentato e siamo arrivati a 12.711 punti di valutazione complessiva del team anche perché come vi avevo detto a livello 26 ho sbloccato la possibilità di inserire il sesto personaggio all'interno del mio team e come avete potuto vedere bene o male ho rimesso Spat and Trader che è utilissimo vi ripeto forse è una delle carte che a inizio gioco è la più utile perché vi permette di poter utilizzare addirittura due special alla volta durante ogni turno quindi se voi avete special AOE con i vostri personaggi sicuramente riuscirete a fare grandissime cose comunque a sto punto niente aspetto faccio un piccolo taglietto quando deciderà di caricarsi finalmente sto gioco ci rivedremo grazie Eccoci qua, siamo finalmente all'interno della batch Come potete vedere ho 10 ticket di quelli premium 5 di quelli free to play, chiamiamoli così Aspetterò di ottenerne 10 perché anche in questo banner Come potete vedere con 10 ticket è possibile fare una multisummon E magari nelle multisummon ho una probabilità più alta Di trovare effettivamente qualcuno che mi possa interessare Andiamo qui, andiamo su questa batch E facciamoci al solito la nostra multisummon Sperando che non debba caricare i secoli Perché veramente mi darebbe parecchio fastidio Vediamo che cosa ci esce Ecco qua, finalmente ha caricato Oh, ho trovato una SR Sì, se magari me la fai vedere Saitama Ti sarei molto riconoscente Niente ragazzi, oggi il gioco proprio mi sta dando parecchi problemi Non vorrei che siamo forse vicino alla manutenzione Quindi forse è per questo che mi sta dando questi problemi Perché ho letto che doveva esserci per l'appunto una manutenzione Quindi ecco, finalmente Vediamo che SR è Oh Carino Ok, niente SSR Però almeno un SR c'è nel mezzo È carino lui Lui si chiamava Aspetta come si chiamava No, no, non me lo sto ricordando È bello che praticamente si è visto anche adesso Nella seconda stagione E si è visto anche contro la rete degli abissi Insieme al biondino, il fulmine Il flash, non mi ricordo come si chiamava Niente, non mi sto ricordando Non mi sta venendo il nome Comunque sì, un SR è carina Perché l'ho vista utilizzata Soprattutto nel PvP Lui permette di attaccare una colonna Come Genos Però a differenza di Genos Al posto di dare l'effetto fiamma Quindi danno da scottatura Ogni inizio del turno Lui praticamente infligge la weakness Quindi debolezza a entrambi gli avversari E in un PvP sinceramente La weakness forse è più utile Rispetto al danno da fiamma Vi farò vedere qualcosa di PvP Magari nel prossimo episodio Anche perché comunque adesso Abbiamo registrato parecchio oserei dire Quindi magari staccherò qui Anche perché se continuo ad andare così il gioco Non posso assolutamente registrare Quindi va bene Diciamo che per il momento è tutto Visto che comunque per ora non posso fare nient'altro Io vi ringrazio al solito per essere stati con me Adesso continuerò a formare la storia Continuerò a formare un pochino di stelle Faccio un po' di PvP Cerco di raccimolare gemme Per arrivare fino al massimo E domani effettivamente dovrei vedere Cosa succederà con Boros Quindi grazie ancora per essere stati con me E ci vediamo alla prossima